GF VIP7, Nikita Punga e Tavassi, commenti durante le puntate e le nomination. Sabato 1 aprile, i concorrenti del Grande Fratello VIP7 si sono ritrovati ad effettuare uno degli ultimi giochi proposti dagli autori. Nikita Pelizzondo può aver pescato il nominativo di Tavassi ne ha approfittato per criticarlo. Secondo il suo punto di vista, il coinquilino in più di un'occasione ha fatto dei commenti fuori luogo inopportuni. Tra Nikita e Tavassi non è mai corso un buon sangue. In occasione di uno degli ultimi giochi proposti dagli autori. La modella triestina ha deciso di punzecchiare il coinquilino dicendo tutto ciò che pensa di lui, ho provato più volte a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination. Secondo il suo punto di vista, il 38enne in varie occasioni avrebbe dimostrato poca sensibilità rispetto a vari argomenti trattati all'interno delle reality show. Nel dettaglio, Nikita ha ritenuto fuori luogo alcuni interventi di Tavassi. Archiviato il pensiero di Nikita su Tavassi, il gioco è proseguito. Nicole Incurvaia nel bigliettino ha pescato il nominativo di Oriana Marzoli e ha detto, sei stata una compagna di viaggio stupenda. Secondo l'influencer, Oriana nel bene e nel male dice sempre ciò che pensa anche a costo di creare una discussione. Il commento positivo di Nicole sulla coinquilina venezuelana non era così scontato. Poiché poco prima tra loro c'era stato un battibecco. Il gioco è proseguito con Marzoli che ha pescato il nominativo di Nikita e ha affermato, ci sono delle cose che non sono giuste. Tuttavia, Oriana ha riconosciuto che sbagliare è umano. Già Elede Dona ha speso parole al miele per Nicole. Spiegando che la trova molto simile a lei caratterialmente. Milena Miconi ha definito Alberto De Pisi spungente ed egoista in alcune occasioni. Ma alla fine ritiene che sia stato uno dei pochi ad averla compresa all'interno del grande fratello Vip 7. A sua volta Alberto ha pescato il nominativo di Giaele e ha affermato, all'apparenza sembri molto superficiale, ma sei molto altruista. Al termine del gioco, Edoardo Tavassi ha avuto un nuovo confronto con Nikita. Nel dettaglio. Il concorrente romano è tornato a parlare dell'amicizia fra la modella triestina e Antonella Fiordelisi, secondo lui. Le due più che amiche avrebbero deciso di allearsi per strategia. Tavassi è convinto che Antonella all'interno della casa di Cinecittà ha solo creato rapporti ai fini del gioco. Dal canto suo, però, Nikita ha risposto che non ha senso il ragionamento visto che poche ore prima Fiordelisi e il suo ex le hanno inviato una dedica aerea. Grazie. 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 Grazie.